Credo che il nostro paese sia l'unico paese al mondo che si appresta a preparare una legge sul testamento biologico ma nello stesso tempo a ridurre gli spazi di libertà e di autodeterminazione delle persone. Quindi l'unico caso al mondo non è appunto casuale perché questa è una legge che viene preparata in risposta e in reazione alla vicenda dell'ora del grado. E chiaramente è una legge fortemente ideologica. Spiegherò subito il perché. Chiedo scusa. Quindi diciamo che la discussione verte su due piani. Uno appunto rivoluzionale e un altro più squisitamente locale inserito all'interno di un quadro normativo che è già esistente. Quindi il discorso del registro del testamento biologico. La legge attuale che si sta discutendo di D.L. Calabro, il famigilato di D.L. Calabro è appunto un disegno di legge fortemente ideologico. Perché? Perché intanto esordisce con un'affermazione che il sindaco mi ha ripreso e che io non condivido non per una questione perché diciamo da parte mia pure io sono su un altro versante, sono appunto, voglio sostenere un altro tipo di ideale, ma perché di fatto noi non possiamo dire che la vita sia un benissimo. Non lo possiamo dire perché come recita un bellissimo spot che noi abbiamo come associazione Coscioni diffuso in tutta la Puglia nel quale si vede un malato terminale che dice la vita è una questione di scelta. Io ho scelto la moglie da sposare, ho scelto di fare università, ho scelto qual macchina comprare, i capelli, il taglio di capelli, però non posso scegliere su tutto ciò che ha a che fare con la fine della mia vita. E quindi questo di D.L. Calabro che si apre con questa affermazione che è puramente ideologica perché ripeto non è poi di fatto sostenibile pone una questione che adesso andrò ad affrontare e che serve anche a rispondere ad un quesito legittimo che poneva il sindaco prima, cioè qual è il limite dentro il quale noi ci possiamo muovere per poter redigere un testamento di biologico. Ma ritorno al D.L. Calabro. si parte con questo, quindi si parte con l'indisponibilità della vita che è un principio insostenibile. Poi si prosegue con la nutrizione e l'idratazione artificiale non mi avventuro adesso in tecnicismi, però anche qui sostenere che l'idratazione e l'idratazione artificiale siano qualcosa di diverso dal trattamento medico e una, come dire, qualcosa di originale che esiste solo in Italia. Io ho letto quello che dice la Società Italiana di Nutrizione Parentale e Denterale che dice che la nutrizione artificiale è un trattamento medico la miscela nutrizionale è da ritenere un preparato farmaceutico che deve essere richiesto con una ricetta medica e deve essere considerata una preparazione di allenica magistrale un trattamento medico a tutti gli effetti tanto che prevede il consenso informato di un morato con un suo delegato. Quindi di questo stiamo parlando perché purtroppo ci troviamo poi a dover diciamo contropattere a degli argomenti che non sono dipattuti dal punto di vista scientifico. Questo lo potrà dire molto meglio di me ma soprattutto la cosa più ridicola è un riso amato di questo di dire che la prova è che dopo aver previsto tutta una serie di tutto un percorso ad ostacoli che deve essere attraversato da chi vuole religiare un testamento archeologico ci dice che le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono importanti per il medico cioè come dire abbiamo scherzato cioè questo è il livello di discussione nel quale siamo stati trascinati. Allora, e non vado oltre mi soffermo soltanto su questi tre aspetti che sono secondo me quelli più gravi che possono essere messi in luce guardando di dire Calabro però credo davvero che si sia arrivati ad un tentativo di svilimento di mortificazione di quello che è appunto questo strumento di uno strumento che altrove viene chiamato living will cioè che altrove assume quella che è la sua reale bestia cioè qualche cosa che va a rappresentare il significato di una nostra intera vita io personalmente ho redatto il mio testamento archeologico è stato qualcosa di estremamente forte che di fronte alla quale mi sono messo e che è stato come una sorta di viaggio che ho voluto intraprendere e percorrere si parlava, come dicevo prima dei limiti entro i quali si deve fare una dichiarazione di trattamento ma allora prendiamo due casi il caso di Pier Giorgio Uelpi e il caso di Juan Aguilavo e vi riporto questi due casi in confronto proprio per farvi comprendere il discrimine e la discriminazione che c'è in un caso rispetto all'altro allora Pier Giorgio Uelpi ha dimostrato attraverso un sacrificio personale umano e politico che poteva interrompere quel trattamento al quale era sottoposto perché era una persona perfettamente cosciente di farlo e quindi tutte le norme in quale una normativa altrimenti esistente gli consentivano di dire no, la persona non voglio più andare avanti e Juan Aguilavo secondo il ragionamento del centro-destra attuale della maggioranza attuale o in sostegno di alcune parti dell'opposizione non avrebbe potuto fare cioè se io lascio scritto che non voglio subire un determinato trattamento questo non dovrebbe avere valore cioè secondo questa legge nutrizioni di trattazione artificiale devono essere obbligatori cioè non si può rinunciare a questo ecco che una legge sul testamento biologico non andrebbe minimamente ad intaccare i nuovi casi webbi ma andrebbe ad intervenire negli eventuali e speriamo che come dire non auspicabili nuovi casi in blu questo per farvi capire che c'è una discriminazione tra chi può disporre tra chi è perfettamente cosciente e può comunicare e chi non può comunicare allora quando anche quest'altro argomento che trovo insostenibile quello di dire che ma io ho qualcosa che sto dichiarando adesso per per un momento futuro guardate il discorso è che si tratta di qualcosa che assolutamente è facoltativo nessuno ci obbliga a fare nulla e noi lo facciamo decidiamo di redigere il testamento biologico se lo vogliamo sapendo che chiaramente stiamo andando ad assumere una decisione che verrà per un caso duro e ipotetico quindi se noi non lo facciamo metteremo chi sarà più a noi nelle condizioni di decidere lui per loro quindi è di questo che noi stiamo parlando e di questo per quanto riguarda la discussione diciamo sotto un aspetto più generale quello che invece ha a che fare con il registro dei testamenti biologici io sono fiero devo dire del fatto che il comune nel quale io risiedo San Tevila Montagna è stato il primo comune della Puglia a distribuire un registro e devo dire con un dibattito di altissimo livello un sindaco di centrodestra una maggioranza di centrodestra che ha sostenuto anche con parlamentari la bontà di questo di questo diciamo di questo strumento che è uno strumento attraverso il quale appunto non si crea nulla quello che si deve capire io approfitto della presenza del sindaco per rilanciare ancora quello che diceva Gianvito mi auguro che anche il Consiglio Comunale possa dibattere di questo e comprendere che al centro c'è questa discussione cioè oggi noi abbiamo la possibilità sulla base della Costituzione del Codice Medico di Demontologia ed anche sulla scorta delle pronunce jurisprudenziali abbiamo la possibilità già di rilasciare delle dichiarazioni di trattamento quindi se andiamo in un comune nel quale c'è un registro dei restamenti ideologici il funzionario del comune andrà a certificare la provenienza e la data certa di quella dichiarazione questo farà questo nei comuni in cui non c'è un registro si può già fare si può fare con un notario quindi mi auguro dicevo che si possa avere anche a San Vito una discussione su questo punto comprendendo che al centro c'è questo aspetto anche qui il rischio di una discriminazione che chi può andare da un notario può già fare questo tipo di intervento e chi invece non può permettersi di andare a un notario non potrà lasciare delle direttive anticipate quindi io concludo il mio intervento auspicando che per l'appunto anche anche qui vi possa essere questo 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 questa discussione e chiedendo al sindaco appunto di portarlo all'interno del Consiglio Comunale comprendendo che è di questo che si sta parlando non si sta inventando nulla non si sta allargando assolutamente nessun tipo di diciamo di facoltà ma si sta riconoscendo quello che già è possibile all'interno di un quale normativo che è estremamente chiaro come dicevo l'articolo del retto 2 della Costituzione ma anche gli articoli del codice deontologico che obbligano il medico a tenere conto di quelle che sono state le volontà dichiarate dalla persona quando questa persona era in grado di appunto di esprimere quelle sue volontà è